E sono quattro, quattro gare disputate da Enrico Fabris in poche settimane nell'impianto olimpico dell'Oval e quattro vittorie. Nella competizione odierna di Coppa del Mondo sulla distanza dei 1500 metri, l'atleta Veneto ha stabilito il nuovo record della pista in un primo 44 secondi 97 centesimi, staccando di 9 centesimi il rivale diretto l'olandese Erban Wendermars e di un secondo e 10 il canadese Danny Morrison. Quindicesimo l'altro italiano in gara Matteo Anesi staccato di 3 secondi 88 centesimi. Lento come al solito l'avvio di Fabris che ancora una volta ha emozionato il pubblico torinese con una rimonta incredibile negli ultimi 400 metri. Ai 1100 metri era indietro di 52 centesimi rispetto a Wendermars, ma poi ha innestato la quarta e ha bruciato il rivale sul traguardo. Nuovo record della pista, un po' un omaggio a Torino. Ma sì, è emozionante che il fatto che ogni volta che partino qua mi sento bene, mi sento la gente vicina, è migliorato ancora il record della pista che mi apparteneva a me, è proprio il fatto, giustifica il fatto che sono in continuo miglioramento, sto bene, quindi è stata una distanza veramente emozionante per me, per tutti i personaggi sono tutte le termine numerose. Ci farà venire un infarto un giorno o l'altro con queste rimonte? Eh, vedremo che non venga prima me, comunque se vi faccio emozionare è sempre bello anche da parte mia, oltre per il mio risultato, anche perché voglio vincere, soprattutto convincere la gente a mi guarda, quello è anche importante.